Siamo in diretta sulla pagina Facebook, ovviamente stiamo sforando con i tempi, abbiamo già il prossimo ospite che è Andrea Sales, psicologo e psicoterapeuta che dovevamo fare il collegamento ancora 20 minuti fa, mezz'ora fa e quindi siamo in ritardo, lo dovremmo aver collegato, tra poco lo vedremo in video. Eccolo qui e lo saluto, ci scusi ancora in ritardo, buonasera Sales. Nessun problema, capisco bene, buonasera a voi. Allora, com'è la situazione da un punto di vista psicologico? Le faccio la domanda così inizialmente, chi ha avuto secondo lei la peggio? Gli anziani come abbiamo detto in tutta questa situazione o i giovani? Sotto tutti i profili e non solo sanitario? Sì, sì, certo, certo. Diciamo tutte le pure, con effetti chiaramente diversi, perché gli anziani hanno avuto effetti chiaramente nefasti, i giovani stanno vivendo un problema che è correlato a quello che si diceva prima con Ferrari e con Lunardi, è un problema anche economico, lavorativo. Quindi i problemi sono per tutti, ma anche per le famiglie, anche per chi non riesce a gestire queste situazioni psicologicamente e quindi molte persone. Diciamo che è una situazione, come si è detto, assolutamente nuova e una situazione che non eravamo pronti a gestire, sia dal punto di vista sanitario, economico, ma anche dal punto di vista psicologico. Ecco, psicologicamente come ne verrà fuori l'uomo e la donna in questo frangente? Diciamo che non ci sarà assolutamente un ritorno a come eravamo prima, perché è questa esperienza, è un'esperienza molto forte, molto importante e quindi ci sarà la creazione di una situazione nuova. Dovremmo educarci, cioè abituarci ad avere relazioni differenti, perché se come si sta sostenendo chiaramente, e io non sono né un immunologo né un virologo, ma sto studiando chiaramente la situazione, le cose si quieteranno a vaccino ormai inserito, si tratta di un anno, un anno e mezzo, a quanto si dice, e quindi per questo lasso di tempo dovremmo lavorare molto sulla costruzione di una relazione di fiducia diversa, perché mentre una volta con l'HIV, facciamo un esempio, l'HIV poteva essere trasferita attraverso dei rapporti sessuali, qui si tratta di un virus che può essere trasferito anche semplicemente con una vicinanza con una persona e quindi dovremmo mantenere e seguire bene le indicazioni che ci sono date anche fra sei mesi, perché il passaggio del virus non è detto che possa non esserci. Ecco, ma senta Sales, proprio in virtù di quello che dice Leonardo, noi italiani eravamo molto abituati alla vita sociale, alla cena, anche il pranzo di lavoro, alla festa, uscire in compagnia, e quindi vorrà dire che per un anno, un anno e mezzo, finché non sarà pronto questo vaccino, se il vaccino basterà a farsi, l'italiano dovrà cambiare modo e usanza di vivere. Ci riuscirà secondo lei? Beh, questa è una domanda molto bella perché o ci riesce o comunque si infette, si contagia, si ammala, quindi è una questione di sopravvivenza e di intelligenza dell'essere umano, perché chi avrà cautela sicuramente riuscirà a gestirsi, chi non ce l'avrà correrà sicuramente dei rischi. È ovvio che c'è anche chi muore di tumore ai polmoni per fumo passivo, quindi ci sarà anche chi sarà molto attento e sarà sfortunato, diciamo. Quindi la questione è capire quanto saremo in grado di diventare responsabili e di responsabilizzare anche gli altri, perché io mi assumo la responsabilità per me, ma cerco di trasferire in maniera molto rispettosa e tutelante questi valori anche alle persone che ho attorno a me. E se questo riusciamo a farlo tutti, pur trovando dei modi diversi di costruire fiducia, quindi di poter parlare, negoziare, rapportarsi con gli altri, allora si può andare avanti. Le faccio un esempio, io il mio lavoro, nel momento in cui è uscito il primo decreto, ho avuto un 85%, io faccio lo psicoterapeuta, faccio il formatore delle aziende e ho avuto l'85% dei miei lavori che sono stati disdetti. Quindi i miei pazienti hanno detto non vengo, verrò più avanti quando si risolvono le cose. Le aziende chiaramente hanno dovuto fermare la formazione, io insegno all'università, ho dovuto fermare tutto. In realtà poi adesso già dopo due settimane, tre settimane, le persone si riavvicinano, perché si stanno appropriando di uno strumento come può essere per esempio Skype, come stiamo facendo noi adesso, e quindi stanno entrando in una nuova forma di pensiero, un nuovo approccio alle relazioni. Chiaramente non è facile, perché far l'amore su Skype non è facile, piuttosto che abbracciare un parente su Skype non è facile. Dovremmo trovare nuove modalità comunicative. Senta, chi ne pagherà più dazio di questa situazione da qui a venire tra l'uomo e la donna? E perché? Ma tra l'uomo e la donna credo che non ci siano grosse differenze, credo che ne pagherà più dazio la persona deficiente, nel senso latino ovviamente, cioè del deficere, la persona che non avrà la capacità di capire la gravità e l'importanza della situazione, quindi il deficiente ne pagherà più le conseguenze, purtroppo il deficiente farà pagare le conseguenze anche a chi è vicino al deficiente. Gli altri sarà proprio una questione di responsabilità e di intelligenza, capire la situazione per saper gestire diversamente la situazione. Secondo lei l'italiano e l'italiana entrambe hanno avuto paura di questo coronavirus, l'hanno capito ora e danno paura ora o no? Ma diciamo, io come tutti del resto, all'inizio è stata sottovalutata qualcuno che l'aveva preso un po' più seriamente, rattacciato di paranoia o di cose del genere, quando poi la cosa invece si è manifestata per quello che è, allora la gente ha iniziato a rendersene conto. Ancora oggi c'è qualcuno che minimizza, voglio dire persone anche che hanno una posizione di privilegio comunicativo, sto pensando a Sgarbi che è uno che ha preso una posizione netta avendo un grande seguito, oggi i dati parlano abbastanza chiaro, io lavoro con tanti medici, con tanti infermieri e le loro esperienze sono veramente drammatiche. Credo che la più grossa responsabilità nostra sia quella di restare a casa o comunque cercare di rispettare il più possibile le indicazioni che il governo ci dà, che gli istituti superiori di sanità ci dà. Senta, lei lo capirà la domanda, cerco di farla in modo raffinato. Questo coronavirus non permetterà di avere un contatto come ha già ripetute volte detto lei, ma il bacio glielo potrà dare alla persona, dico bacio per sintetizzare l'amore, tanto per capirci ecco, la gente avrà paura di fare anche questo nei prossimi momenti? Allora, sicuramente sì, ci sono famiglie che sono con entrambi i coniugi, entrambi i partner a casa e si sentono un po' più tutelate. Ci sono coppie di partner o di genitori, in cui uno va a lavorare e l'altro sta a casa, è chiaro che chi esce è più esposto e quindi è più rischioso. Lì è una questione di fiducia, di rischio, ma anche di consapevolezza, nel senso che fino a quando una cosa non ci succede da vicino, noi tendiamo a minimizzarla. Fino a quando non lo viviamo tra i parenti, conta poco. Io suggerisco veramente di avere grossa attenzione, cercare di pensare alla tutela di tutti, perché gli ospedali sono in questo momento, lo sappiamo bene, belli pieni, noi siamo a un livello di tolleranza anche psicologica molto molto alta, quindi la fiducia deve essere alimentata da atteggiamenti rispettosi. Ci sarà qualcuno, dottore Andrea Sales, che farà qualche tiro sclerotico o non idoneo al momento o alla vita per quello che stiamo attraversando, secondo lei? E se sì e se no, un sistema perché ciò non accada? Allora, diciamo che come in tutte le situazioni che forzano le cose, come in questo caso siamo sicuramente in una situazione estrema, ci sono persone che hanno una minor tenuta psicologica, quindi ci sono quelli che esagerano e che non riuscendo a gestire l'ansia, la preoccupazione e la paura, possono esplodere in comportamenti magari poco controllati. Questo succede, ma non succede solo col Covid-19, succede con qualsiasi situazione. Abbiamo visto l'assalto ai supermercati, è stato un primo esempio di panico collettivo perché le informazioni sono state date un po' così e tutti si sono spaventati. Per ridurre questa cosa mi piacerebbe, ma ormai è tardi per certi aspetti, un'informazione più tutelata, più garantita, più equilibrata e mi piacerebbe anche la possibilità di far sì che le fonti più accreditate potessero avere più voce in capitolo e quelle magari un po' meno accreditate che facessero qualche altro lavoro invece che diffondere notizie allarmistiche probabilmente non tanto utili né tanto meno fondate. Qui basterebbe che qualche politico faccia un decreto e che dica chi scrive qualche fake news nei vari web paghi con determinate conseguenze perché certi ha ragione lei, dovrebbero, io vedo, ho visto circolare delle notizie davvero essendo a conoscenza parlando con i diretti interessati e conoscendo bene la problematica e nel vedere leggere qualcosa di incredibile, tant'è che mia moglie mi chiedeva è vero o no addirittura lei, gli dicevo smettila di guardare le fake news. Ecco quelli dovrebbero, lo Stato e chi di dovere dovrebbero prendere delle decisioni in merito insomma perché reputo in questo momento che siano gravissime. Sì sì sì, io ho un suggerimento che do ai telespettatori è quello di fissarsi due, tre al massimo appuntamenti in arco della giornata per leggere le notizie, scegliere delle fonti credibili, attendibili e evitare tutto il resto perché in questo momento come in tutti i momenti in cui c'è un tema che scotta e questo è un tema molto bollente diciamo, tante persone cercano di cavalcare l'onda per poter dire qualcosa e questo genera ansia, genera preoccupazioni inutili, quindi selezionate due momenti nell'arco della giornata per avere informazioni e il resto mantenendo le indicazioni date cercate di vivere la vita serenamente, aggiungo anche, serenamente per quanto possibile, aggiungo anche la possibilità di provare a vivere questa situazione che noi viviamo come costrizione invece come possibilità, cioè poter fare quelle cose che altrimenti non potremmo fare, paradossalmente nella vita ordinaria siamo sempre di corsa e ci lamentiamo che non abbiamo mai tempo per sistemare casa, adesso che siamo a casa ci lamentiamo che siamo sempre a casa e non possiamo uscire, allora siamo a casa, visto che siamo costretti a stare a casa, chi è costretto a stare a casa? Fate quelle cose che non potete fare di solito e iniziate a vedere le cose in un'ottica diversa, poi è chiaro che la situazione economico-finanziaria è decisamente pesante e anche qui piuttosto che lamentarci mettersi in moto ed essere pronti a quando questo blocco, questi decreti ci riattiveranno, ci permetteranno di riavviarci, essere già pronti per ripartire con linfa vitale, con atteggiamento positivo, con risorse funzionali perché questo diventa un vantaggio, perché chi ripartirà un po' troppo a rilento sarà in ritardo rispetto a quelli che partono invece veloci. L'ultimissima sales, Massimo Alberto è il mio ospite, prego Massimo. Allora, una domanda di riflessione da uomo della strada in una materia complicata come la psiche umana. Uno, il collegamento telematico, ho l'impressione che non potrà mai sostituire gli effetti e i pregi che hanno gli incontri personali, quindi immagino che a breve si apra qualche breccia su questo tema qui. L'altro è che Red Canzian, lei forse non l'ha sentito, diceva, bene, allora io sono d'accordo con lui quando dice che non crede molto all'effetto educativo della crisi perché l'uomo è smemorato, la semplifico, la banalizzo, ma mi trova in linea. Come diceva Montanelli, la storia non ha mai insegnato niente. Sono in parte d'accordo con lei perché purtroppo la storia ha insegnato poco, più che niente poco, nel senso che io credo nelle risorse umane, credo che per esempio una trasmissione come questa possa essere utile per trasmettere un messaggio positivo piuttosto che uno negativo. Io sto usando tantissimi social, per esempio stiamo creando delle comunità di persone che ragionano in maniera diversa. Poi è ovvio che la massa ha un livello probabilmente culturale basso, un livello cognitivo basso e quindi si faccia fatica. Speriamo o meglio speriamo per quello che riguarda gli altri e invece vogliamolo per quello che riguarda noi, perché c'è un grosso distinco tra lo sperare e tutto quello che non riguarda la mia volontà e quindi lo spero per gli altri, ma la mia volontà sicuramente è fare in modo di poter essere un esempio per quel poco che posso fare io, per quelle poche persone che posso intercettare io con il mio lavoro, con il mio utilizzo di social network, riuscire a trasferire qualcosa. Poi chiaramente se 10 persone, io ho più o meno 50 mila persone sui social network che mi seguono, se 10 persone o 20 persone cambiano idea e stanno meglio, io sono già soddisfatto di aver fatto un buon lavoro. È ovvio che pensare di avere un sistema sociale che funzioni al meglio è effettivamente utopia, quindi sono allineato con Red Canziano ma vorrei essere un po' più sul positivo. L'ultimissima, Sales, breve la domanda, breve che la risposta è il dottor Lonardi, prego. Io ricordo la famosa affermazione di Einstein, mi ha sempre guidato nella vita, cioè quella che la crisi è sempre un'occasione importante per la creatività, credo dobbiamo usare questo tempo anche per riflettere come siamo vissuti, cosa abbiamo fatto, come abbiamo organizzato il nostro lavoro, abbiamo tutto il tempo per giudicarlo alla prova dei fatti, per vedere come si può implementare, modificare, cioè trasformarla in occasione positiva. Questa è la cosa che al mattino quando ci alziamo credo ci deve guidare lungo le ore della giornata e allora ti capita che arrivi alla sera che hai fatto, tu stando a casa, metà delle cose solo che pensavi di fare. E la giornata è piena, è piena di un significato ed è piena anche di frutti, di produttività che poi nel tempo li metterà in atto, ma che nascono in questi momenti, non crede? Sì sì, sono assolutamente d'accordo. Vi aggiungo una cosa in chiusura perché non voglio rubare tempo, che nel giro di un mese io ho già avuto una riattivazione completa del mio lavoro, io ho già una 15, io lavoro, faccio molta formazione in azienda, ho già una quindicina di aziende che mi hanno chiesto di fare formazione per loro, per la gestione psicologica. Prima la formazione era sul team building, su tutte queste cose, adesso è la gestione psicologica e facciamo formazione utilizzando la tecnologia. Quindi Einstein diceva se vuoi cambiare le cose non puoi pensare di fare le stesse cose che facevi prima, quindi riuscire a cambiare le cose, avere un atteggiamento diverso, permette come dice lei giustamente di utilizzare il tempo in maniera costruttiva anche cambiando le cose che adesso non sono più funzionali. Grazie Andrea Sales, buonanotte, grazie a voi, grazie alla disponibilità, ovviamente a lei e anche a tutti quelli che hanno avuto la pazienza di attendere il mio ritardo in questa trasmissione, noi andiamo in pubblicità, ma voi rimanete con noi perché poi rientro abbiamo tante cose a dirvi con Lonardi e con Alberti a tra poco.